Disabili gravi, dalla prossima settimana 42 nuovi infermieri dedicati all'assistenza domiciliare. Il commissario straordinario dell'Aspes di Siracusa Alessandro Caltagione, coadermato dai direttori sanitari e amministrativi Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo, dal direttore delle risorse umane Lavinia Locurs, con il suo staff, ha deliberato il conferimento di incarichi a tempo determinato per 42 infermieri destinati in via esclusiva all'assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti e disabili gravissime che usufruiscono del servizio H24. La delibera è pubblicata all'albopletario dell'azienda a effetto immediato e i nuovi infermieri, il cui numero è stato calcolato sulla base dell'analisi del fabbisogno elaborato dal Dipartimento ADIS diretto dall'Anselmo Madeldu, entreranno in servizio entro il 18 marzo. Gli incarichi sono stati conferiti ai primi 42 candidati di una graduatoria esistente che hanno dato la propria disponibilità immediata e incondizionata con decorrenza dalla firma del contratto fino al 31 dicembre 2024. I nuovi infermieri integreranno l'assistenza erogata dagli enti esterni accreditati prescelte dalle famiglie dei pazienti, oltre il tetto massimo consentito di 62 ore fino alla copertura dei turni per i casi di assistenza H24 disposta in via straordinaria dall'autorità giudiziaria.